Un viaggio da incubo, una nave intera, quasi presa in ostaggio da 29 extra comunitari che a bordo hanno scatenato l'inferno. Il traghetto è quello della Tirrenia, che collega Cagliari con Napoli. Un episodio che getta altra benzina sul fuoco delle polemiche legate alla gestione dei flussi di immigrati. Ieri pomeriggio un gruppo di africani, soggetto a degreto di respingimento, una misura che precede di sette giorni l'espulsione dall'Italia e il conseguente Rimpatrio si è imbarcato per raggiungere il porto del capologo campano, ma nel corso del viaggio, durante la notte, hanno messo a ferro e fuoco la nave. Sale e cabine sono state devastate, ma a ritrovarsi in balia della banda anche i passeggeri, tra questi alcuni africani. Un ragazzo senegalese ci ha raccontato ai nostri microfoni quanto avvenuto a bordo. Un assalto alle cuccette con tentativi di fare irruzione nelle stanze, poi furti e anche molesti ai danni delle persone che per caso si sono ritrovati di fronte. Prima di arrivare al porto di Navea il comandante del traghetto, il Gianas della Tirrenia, ha informato la polizia di tutto quello che stava avvenendo a bordo. Gli agenti della questura di Napoli hanno atteso l'arrivo della nave e sono saliti a bordo per verificare quanto era appena accaduto e per accertare che nessuno si fosse nascosto a bordo per evitare l'applicazione del decreto di espulsione.